e scende il cancello anche per questi altri rider, uno più veloce dell'altro e abbiamo ripeto in gara Balestracci, Panzeri, Rossin, Gilardi, Barboni, Vigano e Caslini grandi rider, il futuro del BMX, un mega applauso li portiamo fino al traguardo sono già sulla seconda linea, molto vicini l'uno con l'altro eccoli qua, i primi tre con un po' di distanza ma abbiamo ancora il numero 2010 l'ho visto prima, fortissimo, eccolo qui, il giovanotto delle marromotte Loretto anche lui sulla penultima linea in questo momento e ancora al cancelletto di partenza, apri pista, Villa, Massimiliano, Lancer Peter